C'è stato un periodo di sofferenza a 360 gradi. Finalmente possiamo parlare di calcio giocato dopo tantissimi allenamenti. Vedo che c'è tantissima voglia e da parte mia c'è anche tanta curiosità di ripartire e di tornare a fare una partita vera. Adrenalina, passione per quello che poi facciamo quotidianamente sul campo. Riavolgiamo un pochino il nastro e proviamo a fare le carte a questo campionato perché Lentella è inserita in un girone magari non troppo consono alle sue caratteristiche geografiche perché si giocherà prevalentemente al sud. Un girone ambizioso, magari con difficoltà legate agli spostamenti, forse anche alla preparazione di certe realtà che si conoscono un po' meno. Sì, sicuramente c'è un'incognita che Lentella non ha mai affrontato, che è quello di affrontare le squadre del sud. Però sicuramente è molto formativo per noi ragazzi e anche per lo staff tecnico. È un'esperienza nuova che facciamo con grandissima velocità ma anche con grandissimo entusiasmo perché penso che lo stimolo di affrontare delle nuove realtà per noi deve essere qualcosa che ci deve dare qualcosa in più. Sotto il profilo soprattutto caratteriale della determinazione e dell'atteggiamento che sicuramente non dovrà mai mancare. Allora, se riparte da Lecce, parlavi di atteggiamento, quali saranno le caratteristiche principali che chiederai ai tuoi ragazzi? Io ai ragazzi gli chiedo sempre esclusivamente di dare il massimo. Poi è chiaro che ci sono gli avversari, il Lecce è una squadra che è stata costruita per vincere il campionato, però sicuramente l'atteggiamento deve essere sempre di una squadra propositiva, di una squadra che va a affrontare le partite per ottenere il massimo. Poi i risultati è chiaro che ci diranno quanta strada c'è da fare e quanto c'è bisogno di lavorare. Sono cambiate tante cose in questi mesi, una su tutte. Hai un nuovo collaboratore importante, un secondo allenatore certamente di carattura di livello. Che cosa sta dando a questo gruppo? Sicuramente Massimiliano è un valore aggiunto per l'esperienza che ha avuto in passato. È innanzitutto un amico che abbiamo una conoscenza di tantissimi anni e sono contento che sia venuto nel nostro staff e nella nostra società perché sicuramente può dare tanto ai ragazzi ma anche a me. Le sensazioni sono buone. Diciamo che è servito anche a me per comunque conoscere i ragazzi, conoscere un po' le metodologie del Ministro, anche se da diversi anni che comunque ci confrontiamo, però un conto è confrontarsi, un conto comunque è testare di persona il lavoro che si svolge qua. È un rapporto che si è instaurato da diversi anni, quindi è chiaro che poi è sfociato da giocatori, e poi comunque c'è stato sempre feeling sia in campo che fuori dal campo e quindi ora sono qua per dare una mano a questo progetto che è un progetto importante. Ma è un campionato anomalo come lo sono un po' tutti i campionati in questo anno solare, diciamo, perché poi comunque con queste riprese fermate, diciamo che soprattutto a livello di settore giovanile è dove maggiormente hanno accusato il colpo. Invece in prima squadra è chiaro che con i tamponi che si possono fare, con tutti i controlli, sono stati più agevolati. È un'incognita un po' per tutti, ma penso che si parta poi tutti alla pari, perché bene o male tutti quanti abbiamo dovuto risolvere questi problemi.